Bella a tutti ragazzi e quelli già per il mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qui ragazzi ritornati su Minecraft Questa volta con l'episodio numero 34 Ebbene si ragazzi dopo una settimana di mancanza di video Sono ritornato veramente scusatemi veramente tantissimo Ma purtroppo chi mi segue sulla pagina di Facebook sa che sono stato veramente tanto ammalato E quindi non ho potuto registrare o meglio non mi sentivo di registrare Perché i video non venivano belli altrimenti E quindi ho deciso di non registrare infatti ancora ora sono un po' con la voce magari un po' strana Mi sentirete un po' strano sicuramente Quindi veramente scusatemi veramente tantissimo per questa mancanza di video Ma adesso siamo qua pronti a ripartire carichi Allora ho modificato ci ho giocato veramente tanto a Minecraft Come vedete qua ho rimosso tutto il grano che c'era e l'ho sostituito con delle piante di carota Si ragazzi mi sono messo qua con il bom meal Ho spammato tanto di quel bom meal da farmi veramente una cosa di carota infinita Poi ho sistemato qua dentro Cioè era già sistemato Però adesso come vedete lì ci abbiamo il coso d'oro Cioè il lingotto di ferro E qua praticamente abbiamo tutti i lingotti Quindi i lingotti d'oro e i lingotti di ferro Quindi questo è il lingotto verrà messo qua Qua c'abbiamo la terra Qui c'abbiamo il blocco d'oro Vabbè non è solo d'oro ma c'abbiamo anche quello di ferro grezzo Ovvero qui ci metteremo tutti i minerali a blocco Qui c'abbiamo una cesta di diamanti Qua abbiamo la cesta di grano eccetera eccetera Cosa molto importante il piano superiore lo sto dedicando al nether e al land Come per esempio la nether break Abbiamo quella delle landerne La lumitre E abbiamo anche le blazer pounder Praticamente sono andato giù Nel appunto nel nether A cercare una fortezza E l'ho trovata Ho preso le blazer La polvere di blaze Però ragazzi una volta respawnato Perché mi sono portato del Della cosa Dell'ossidiana appresso Perché ero consapevole che non trovavo più l'uscita Sono uscito Mi sono fatto un portale là appunto nel castello Io ho detto vabbè tanto adesso Usciremo sempre qua davanti al castello Cambieremo lo spawn Invece no sono spawnato in una foresta di merda Le coordinate del portale non me le sono sognate Quindi sti cazzi abbiamo perso la fortezza Però tutto sommato abbiamo le nostre La nostra polvere di blaze Che ci serviva e ce l'abbiamo Poi ho ucciso altri enderman Ne abbiamo due ender per l'impiù Qui come vedete ci abbiamo gli occhi di ender Che li abbiamo già trasformati Ragazzi tra l'altro adesso in questo momento Non so come mi vedete voi Perché è la prima volta che utilizzo la luce nuova Qua nei video Quindi buono non so veramente come mi vedete Scrivetemelo qua sotto nei commenti Adesso comunque sto andando un attimo La nella cosa Vediamo un attimo quando maiale cotto ci da Io credo tanto perché Da veramente tanto tempo che do carote È veramente un casino Quindi minimo mi deve dare veramente Tante di quelle cose di maiale Ecco 23 mamma mia Poi ragazzi inoltre Ho iniziato un nuovo sito di scavi Perché questo qui veramente Questo qui che avevo qua Praticamente non mi piaceva Ogni volta mi perdevo E poi non aveva tante risorse A disposizione Quindi mi sono messo a scavare qua Ragazzi sono sceso fino al livello 12 Ecco appunto come vedete Ci sono veramente tanti corridoi Vabbè questo qui è tipo lungo lungo Poi vabbè ce ne sono altri che non sono Chissà quando lunghi Comunque avevo trovato del diamante Ho detto non lo raccolgo Perché se no poi magari Non se sa Quindi lasciamolo qua che è meglio Lo raccolgo in compagnatore Guardate quando cavolo Di diamante ho trovato Io adesso lo spacco Con il piccone di diamante Di filtacce ragazzi Con il tocco di velluto Così poi A fine puntata Lo andiamo a spaccare tutto Così vi faccio vedere Quando diamante abbiamo Poi se non mi sbaglio più avanti Avevo trovato anche un'altra vena Di diamanti Quindi andiamo avanti Perché se non mi sbaglio Ci dovrebbe essere un'altra vena Di diamanti Eccola qua infatti La vena di diamanti Vabbè sono solo due blocchi Quindi raccogliamoli Uno E due Erano due blocchi qua E poi forse Non ne avevo trovate più Perfetto Adesso usciamo Abbiamo sette blocchi Di diamante ragazzi Sette blocchi Adesso a fine episodio Li andremo a spaccare Con il piccone Con fortuna 3 E vediamo quanti Cavolo di diamanti Ci escono Io adesso Questi blocchi Li piazzo qua Uno Due Tre Quattro Cinque Veramente già sono sei E sette Perfetto Io adesso li piazzo qua E li lascio qua Allora adesso come vedete Qui abbiamo veramente Tantissima cobblestone Perfetto Cosa andremo a fare Con tutta questa cobblestone Qua Praticamente Siccome qua Non spawnano Enderman Oppure non ci danno nulla Quindi adesso Voglio fare Un Mob spawner Con Contra virgolette Risucchio automatico Come lì Per la farm Di carne Che una volta Che la costoletta Viene cotta Viene risucchiata All'interno della chest Sarà così Anche con Il mob spawner Metteremo Un meccanismo Di questo tipo Che è molto semplice Da fare Quindi metteremo Questo meccanismo E niente Quando ovviamente Cadrà il mob La cosa verrà Risucchiata Praticamente Quello che appunto Lascerà il mob Cadrà dentro la chest E poi noi Ce lo andremo a prendere E lo utilizzeremo Questo mob spawner Deve essere alto Capiente E non dando lontano Dal villaggio Io direi Di costruire Il nostro mob spawner Qua ragazzi In questo Preciso posto qua Il tunnel dove cadranno I mob Sarà così Uno Due Tre Quattro Perfetto Un quadrato Praticamente Cadendo da questa altezza Credo che un mob Una volta arrivata solo Sia Venglo Che morto Adesso Devo fare In modo Che praticamente Niente Devo formare la piattaforma Che c'è giù qua Perfetto Dovrebbe essere così In teoria qua Ci cadono I mob Adesso poi qua Noi metteremo L'acqua Poi una corsia di lì Una corsia di qua Una corsia di qua E una corsia di qua Quindi adesso Andiamo a creare La corsia Lunga 9 Quindi uno Perfetto Questa è la corsia Ideale Dove l'acqua La massima distanza Che l'acqua Riesce a percorrere Adesso facciamo una cosa Di questo tipo In tutti e quattro i lati Perfetto Allora Siamo scesi giù Siamo ancora vivi Indatti Più che altro Allora Io devo prendermi un attimo Un zecchio d'acqua Perché questi esperimenti Li devo fare Prima Ovviamente di finire La struttura Perché metti caso Alla fine Io sbaglio di una misura Siamo fottuti Devo distruggere tutto E rifarlo Ok come potete vedere È perfetto Quindi dobbiamo farlo Lungo 9 E murare sul blocco Numero 9 Perfetto Abbiamo fatto quello che è Lo scheletro Adesso non dobbiamo fare altro Che pavimentare Tutti i lati E poi alzarlo Di tre blocchi Perfetto Questa qui è una piattaforma Adesso lo faremo In tutti e quattro i lati E praticamente Questa qui sarà La piattaforma Dove ci sarà L'oscurità Che permetterà Ai mob Di crescere O meglio di spawnare Perché si chiama Mob spawner Perfetto Abbiamo terminato Quella che è La piattaforma Dove andranno A spawnare Tutti i mob Devo fare Minimo Alto 3 Se no Non spawna Nessuno Perfetto Abbiamo alzato Le mura Come vedete Sono alte 3 Però ovviamente Il tetto Useremo Un altro Metodo Per costruirla Allora Intanto adesso Io qua metto Delle torce Così Invinite Se no Praticamente Qua i mob Spawnano Già ad ora E non è Una bella cosa Comunque adesso Andiamo a chiudere Anche il tetto Perfetto ragazzi Il nostro Mob Spawner E finalmente Completato Come vedete E' tutto chiuso Ancora non è funzionante Ovviamente Perché Ci sono le torce Eccetera eccetera Qua si è bugata L'acqua Dove c'era il coso Che appunto Dava acqua Invinite Si è bugato E quindi Ecco qua Come è rimasto Io ovviamente adesso Devo scendere Poi devo risalire Per poter mettere Il secchio D'acqua là Quindi adesso Leviamo le torce E scendiamo Giù Immediatamente Via In una velocità Veramente Run 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 Quindi Leviamo tutte le torce Perfetto ragazzi Il mob Spawner E' finito Così questa è la forma Finale Quello che appunto E' Il cosiddetto Mob Spawner Però L'unico problema Che sto notando Adesso E che ancora Dopo 10 minuti Di essere qua Non è caduto Neanche un mob Praticamente Sulla pagina Di facebook Vi avevo scritto Praticamente Che colore preferite Verde Blu Oceano No blu Blu Azzurro Oceano Era Comunque voi Mi avete detto Azzurro In molti Mi hanno detto Azzurro E quindi Perché questo Azzurro Verde Oceano Ve l'avevo detto Praticamente Siccome Come vedete qua Il mob Spawner Adesso è così I mob Cadono Così Quindi Non volevo Fare Il tunnel Di cobblestone Perché Praticamente Se no Non si vede Nulla Mentre se lo faccio Di vetro E appunto Si vede il mob Che cade Quindi Volevo farlo Di un colore Ovviamente Vi ho fatto scegliere Il colore A voi E voi Mi avete detto Azzurro Quindi Andrò a colorare Il vetro Di colore azzurro E lo metteremo Comunque Attorno In questa maniera Quando il mob Cade Cade Dentro il vetro Quindi Non va vagando Per i cazzi suoi Se rimane vivo C'è ragazzi Che cadono i mob Questo Mi sta più che bene Il problema è Perché Non muoiono Ragazzi Ho levato un blocco Adesso vediamo Se cadendo Loro muoiono Ecco mob Ma che ca Ma che ca Ma che Allora Non muoiono Questo come cazzo E vestito Che cazzo ha Addosso Non lo so E ne sono arrivati Due E non sono morti E tra l'altro Lo scheletro Mi ha sparato Mentre cadeva Assurdo Ragazzi Il mob spawner È efficiente Perché stanno cadendo mob All'invinito E se ti metti qua Per un bel po Veramente Arrivano tanti mob giù Però Non va assolutamente bene Che loro cadendo Rimangano vivi Comunque Questo qui È il mob spawner Finito Adesso mi sono allontanato Un boss E non continuano A cadere mob giù Appunto Come vi ho detto prima L'unico problema È che Non muoiono Cadendo E poi Dobbiamo fare Quel tunnel Che vi avevo detto In vetro colorato Quindi Io La colorazione Azzurra Ce l'ho Il vetro Non ce l'ho Quindi in off camera Mi metterò il vetro E farò tutto ciò Comunque adesso Con il piccone Con fortuna 3 Leviamo I blocchi di diamante Vediamo Quando i diamanti Ci droppa fuori Vediamo Ragazzi Io sparo Un numero A caso Li ho rotti Tutti Sparo Un numero A caso E dico Non lo so Dico Vendi diamanti Così Vendi diamanti Vediamo 21 Cavolo Per uno Ho sbagliato Comunque Ci ho dato 21 diamanti Da 7 blocchi Quindi veramente Ottimo Quindi ragazzi Che a dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Inoltre Fatemi sapere Cosa costruire Nel prossimo episodio Cosa ne pensate Di questo Mob spawner Inoltre sapete Perché i mob Non muoiono Vabbè Ovviamente Per l'altezza Però Se sapete Super giù I blocchi Dall'altezza In cui loro muoiono Scrivetemi Qui sotto Nei commenti Quindi Se volete passare Della pagina di Facebook E dal profilo di Instagram Mettetevi il link Sotto in descrizione Iscrivetevi al canale Per nuovi video Qua dolce è tutto Bella raga Tantissime voci Che parlano Di questa notizia E quindi Ne sto volendo Parlare Anche io Perché Praticamente Sto gioco Lo amo A bestia Chi di voi Non ha giocato mai Red Dead Redemption Magari i più giovani di voi Non l'avranno giocato Questo titolo E voi vi starete chiedendo Sto gioco Ma Grazie a tutti.